Yu-Gi-Oh tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Ragazzi, è proprio quel momento di sbustare qualche sopportino alla nera. No ragazzi, non prendiamoci in giro, penso che la nera è l'unica cosa che non voglio sbustare. Posso un attimo ritrattare? Sono i goti, l'unica cosa che non voglio assolutamente sbustare. Ragazzi, finalmente siamo arrivati con la nuova espansione, Darkwing Blast. Ovviamente se volete sbustarla, qua sotto in descrizione trovate il link di Magic Corner. Sì, vabbè, diciamo che mi supporta, sopporta, e spero che voi mi supporterete col mio codice sconto 2022 cappello per carte singole e prodotto sigillato che non è soggetto ad altre offerte. Inoltre, prima di iniziare, se volete comprarvi questo prodotto ma non avete soldi, io ritiro carte di Pokémon, Magic o Yu-Gi, quindi nel caso scrivetemi su Instagram che un accordo secondo me si trova. In più, oggi alle 16 sul mio canale Twitch, trovate il link in descrizione, andremo ad aprire un intero case alla ricerca della Starlight e di Rubellion. Detto questo, io un attimo andrei a fare un giro su Car Market per vedere effettivamente quali sono le carte più interessanti. Poi vabbè, abbiamo Lubellion, che è anche questa carta incredibile che costa una fracca e mezzo di soldi. Poi abbiamo Ferrier, che qua vedete 35 ma sta a 50. Cartesi, anche questo è buono. Il nuovo supporto sprite che secondo me sta ancora pochino. Poi abbiamo la nuova magia che dovrebbe sostituire Dimensional Barrier, ma secondo me sarà un fallimento, che è Spellbound. Diciamo che era partito da 30 euro l'una e adesso sta a 18, ma va bene. Poi abbiamo i supporti Tier Lamens, la roba Labyrinth, la roba Beastial che, ragazzi, adesso non vorrei dire, eh. Però, però, è una super, eh. È una super che sta a 9 euro. Se vola, se vola tantissimo. Cioè, le super potrebbero essere interessanti a questo giro? Sì, perché adesso non sono tutte così, ma vanno dai 2, 4, agli 8 euro. Grande Konami. E vabbè, poi il resto lo scopriremo vivendo. Detto questo, ragazzi, tocca iniziare a spacchettare. Speriamo di trovarne una buona e senza mutande. Oh, guarda quanto sono belli sti 24 pacchetti, dove ovviamente dentro ci sarà la Prisma. Ah mamma mia, sarebbe incredibile. 2 su 2, considerando il case dell'altra volta. Allora, andiamo col primo pack e vediamo di sculare. Abbiamo i nuovi supporti Naturia che hanno fatto salire Naturia Bestia tipo a 10 euro, la sua versione Secret. Poi abbiamo Amazones Spiritualista, roba brutta. Cartagoti. Poi vabbè, Trappola Cash Trilà, Amazones e Naturia. E già partiamo malissimo. Andiamo col secondo. Qua, se la Konami mi vuole male, farà uscire ovviamente il Synchro Goti. E io... No, abbiamo la carta magia Branded. Bellina. Qua la lore si infittisce, ragazzi, eh. Però... Andiamo avanti. C'è stato un lag, ragazzi. Ovviamente non vado a strappare quello Secret perché almeno qualche euro vorrei recuperarlo, eh. Bayrock Dragon. Mol... Che culo! Che culo di merda! Già Spellbound! Incredibile! Beh, l'effetto non è... Cioè, è buono, non è incredibile come la Dimensional Barrier, ma c'ha, cazzo, un artwork che mette i brividi. Dai, è fighissima! Ma... Ma volo, volo tantissimo. E siamo al secondo pacchetto, eh. Adesso vediamo. Comunque sabato sono stato allo sneak peek di questa espansione e ho trovato la Labyrinth Secret. Quindi... top. Ma... Aspettate un secondo. Mi sembra se fosse lui. Se fosse vero godo. godo un botto. E se vola! E se vola! Incredibile! Altri 8 euro! No! Best... Best box! Vi stavo dicendo, ho trovato una Labyrinth e penso un Magnemuth che ho venduto a 2 euro. Perfetto. Poi il torneo è andato una merda. Ho preso proprio gli schiaffi a destra a manca. ma... Oramai BA Going First ha fatto il suo e... Non si può più giocare. Dagger for hire. Quindi... Adesso si va di Going Second, pieno di N-Trap e di robe cancerogene come Droplet e Minamistica. Poi vediamo chi ride, eh. Andiamo avanti perché secondo me questo box può regalare soddisfazioni, eh. Abbiamo Augusta e il nuovo supporto Blackwing. Fighissimo! Ma, ragazzi, io ho visto gli artwork dei Blackwing nuovi. A parte che il mosto di copertina è... Cioè, è incredibile. Però, diciamo, se posso volere una carta, preferirei Fenrir, come Ultra, eh. Poi abbiamo la Ritual of Prediction, la carta Naturia e Magia Terre Laments e Secret Art. Ragazzi, prima di continuare con il video, vi ricordo che se volete supportare questo canale, vi basta iscrivervi, mettere mi piace e se volete anche commentare questo video, in modo tale da spingerlo il più possibile e farlo vedere anche a mia mamma. Perché lei non se riguarda. Grazie. Camellia. Perché sì. Poi, carta Scarecrow. C'è la carta di potere, di questo archetipo, che l'ho venduta a 4 euro, mamma mia. Godunbotto. Abbiamo la Prediction, Han e Simul Archive End. Va bene, va bene. Uh, che cazzo è? È inquietantissimo, un botto. Allora, altro pack abbiamo Griff. Poi abbiamo Yorir. Yorishiro. Che è, penso, l'artwork nuovo di una vecchia carta che usciva in un set vecchio, di cui non ricordo il nome. Amazones, decisivo. E Saronir. Grande. Vediamo Saronir quanto sta. Che secondo me anche questo può dare soddisfazioni, eh. Mmm, un euro. Ce faccio poco. Però, però, non si butta via niente. Assolutamente. È come il maiale. Si mangia tutto. Tiriamo fuori e vediamo cosa abbiamo. Abbiamo due treni. Ovviamente non si giocano in macchina train in Finidrack. Il best mazzo di sempre. Poi, palta e... Ah, che bellino. Un Blackwing. Mi ricorda Blizz. Probabilmente con le carte gotici farò un falò. Sono abbastanza convinto di questo. Allora, abbiamo poi... Declino. Supporto Ninja. Supporto Amazones. Runic. E un altro Blackwing. Cazzo, ma i supporti Blackwing, veramente... Allora, non prendemmoci in giro, ma sono bellissimi. Questo sembra la versione femminile di un Blackwing che usciva ultra raro o Ultimate, di cui non ricordo ovviamente il nome. E però era maschio. Questo è femmino. Poi abbiamo, vabbè. Trappola Blackwing. Totalmente inutile. Poi, dico così, e alla fine è la carta best del mazzo. Ed è l'unica che si gioca. Abbiamo Celestial. Amazones. Castrira Ogre. Puffin. Ragazzi, adesso per forza mi devo... Devi uscire lui. Devi uscire tu, testa di cazzo. Questo mi ricorda quello che hanno sbannato nell'ultimo Vanned. Adesso non... Ragazzi, io ho una memoria veramente discutibile. Quindi non fate riferimento a me. Per nomi o robe varie. Silent Wolf. Calupo. Carta Mazzones. E... Branded Regained. Intanto me le porto avanti, ragazzi. Le metto tutte da una parte. Poi... Stasera, quando accendo il cammino, starò lì. Lancerò una dopo l'altra e le vedrò bruciare. Soprattutto perché sono pesci. Quindi soffriranno ancora di più. Allora, abbiamo... Prediction Princess Biblio Mousse. Cartamazzo adesso. Augusta. Silent Sword. E... Boh. Syncro generico X con la faccia di un gatto. O comunque siamo a Mono Secret e... Mono o doppia oltre. Qua manca ancora qualcosa. Abbiamo dei prati. Abbiamo Zonda. Anche questo, secondo me, Artwork bellissimo. Che, secondo me, Secret... Avrebbe... Finalmente è uscito. Grande. Cazzo, sono usciti tutti i supporti. Mamma mia. È bellissimo. Ma, ragazzi, è incredibile. Peccato c'è solo Ultra. Però è veramente incredibile. Non è... Non è una carta di valore. Altra carta goti. Non è una carta di valore, però... Nel dubbio. A me piace un sacco, eh. Adesso... Adesso... Un bel Lubellion o un Fenrir. Cazzo qua. Mi farebbe svoltare il pacco opening. Wards sì. Onesto. Onesto. Ho controllato prima e si aggira sui 13.50. Non è tantissimo. Però, nel dubbio, è forte. Lo puoi tirare sopra un Link 4. Quindi, sopra Pollusa. Quindi... Top. Ne rimangono un po'. Io spero in un box fallato con 3 Secret e la terza e il Lubellion. O una bella Ultra tipo Fenrir. Qua, guarda un po'. No, è una carta sprite. Dagli un po'. Tiramo giù qualcosa. Poi oggi è uscito pure l'OTS20, se non sbaglio. E... Beh, che carino. Che carino. Questo se lo fregherà la mia fidanzata. È uscito l'OTS nuovo e quindi tutti i player di Sky Striker lì... A sfregarsi le mani e farsi i seglini su Rai e Ultimate. Bene. Dovrò comprarla pure io. Non gioco Sky Striker, eh. Però, sai... È bellina, eh. E poi le sue sorelle costano una fracca e mezzo di euro. Non vorrei dire, eh. Fare sempre la persona venale. Però... Sopportino Blackwing. Dai. Tiriamo fuori qualcosa di umano. Almeno come ultimo pool. Ci sono rimasti cinque pack. Ok, non posso. Cioè, in che universo io devo concludere questo pack opening con una carta del genere? Ok. Ok. Non è Fenrir, però... Già cartina da otto euro, onesta. Va bene. Adesso o me ne fai trovare un altro paio, oppure... Adesso non chiedo tanto. Però una terza secret, così, per ride. Saronin. Vabbè, quella da un euro. Non chiedo l'Ubelion. Chiedo qualcosa anche di più umano. Di accettabile. Che mi faccia dimenticare quei goti di merda. Simul Archfield. Double pack. Dai, io credo nel cuore delle carte. Io credo che qua possa uscire qualcosa di umano. Io credo in me stesso. Granded Beast. Meglio che non credo in me stesso. Ragazzi. Ragazzi, ultimo pack. Abbiamo trovato lei. Abbiamo trovato... Che cazzo abbiamo trovato? Ah, il Link 4 e la magia brutta che sostituisce Dimensional Barrier. Però, non mi basta. Tiriamo fuori qualcosa di foil che non sia una super. E che non sia un goti. Forse avrei dovuto di che non volevo neanche Ninja. Beh, dai. Alla fine non mi posso lamentare. Perché abbiamo la roba Bissial. Magnamut. Ne abbiamo trovati due. E già sono 16 euro. Poi, vabbè. A parte la roba gotica. È discutibile. Abbiamo... Questa bellezza. Che secondo me è incredibile. Che sta sui 15 euro. Abbiamo Spellbound che sta ad altri 20. Nel dubbio. Poteva andare sempre peggio, eh. Detto questo, ragazzi, vi rinnovo nuovamente l'invito per questo pomeriggio su Twitch. E a questo giro Lubellion e Fenrir non sfuggono. Quindi, ragazzi, con questo è tutto. E noi ci rivediamo sempre qua. Quando me va. Con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.